Grazie mille. Grazie mille. Buongiorno. 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 Questa è l'arte della carta testa, non so se è racconoscenza, è una prevenzione che abbiamo qui. Se non mi sbaglio lei è maltese, c'è un sacco di opere a Malta. Sì, sì. L'arte ho fatto l'accademia, però questa è un'arte che mi è stata mandata dal mondo. Mi ricorda gli 800 anni del primo presepia di Greccio. Ciao. Allora, tu come ti chiami? Giulia. Giulia, a te, a tu. Perfetto, Letizia. Letizia! Allora, chi mi dà un high five? Io! 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 Tutti questi, tutti voi. Ciao, buona giornata.